Fratelli e sorelle, tutti ben ritrovati. Ci prepariamo alla quinta domenica del Tempo Ordinario. Mediteremo il capitolo primo di Marco dai versetti 29-39. Se ci riguardiamo indietro, possiamo cogliere alcuni particolari che possono aiutarci nel nostro cammino. Nella prima domenica abbiamo meditato il battesimo di Gesù presso il fiume Giordano per mezzo di Giovanni Battista. Nella seconda domenica, il 14 di gennaio, Giovanni Battista ha indicato in Gesù l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, un'indicazione, una segnalazione che ha portato i discepoli di Giovanni Battista a lasciare il loro maestro e a seguire Gesù, l'agnello di Dio. Nella terza domenica del Tempo Ordinario abbiamo meditato Gesù mentre passeggiava lungo le rive del lago e chiamando i pescatori, i quali, lasciate le reti, lo seguirono. Sarà il nucleo dei primi discepoli di Gesù. Domenica scorsa, quarta domenica, abbiamo incontrato Gesù nella sinagoga mentre insegnava con autorità. Così testimoniano i presenti. Non è come gli scrivi, ma Gesù insegna con autorità, cioè insegna in modo convinto e convincente, a tal punto che anche i demoni prendono paura. Oggi incontriamo Gesù che lascia la sinagoga e si reca nella vicina casa di Simone e Andrea, dove viene segnalato che la suocera di Pietro è malata e lui la guarisce. In questi brevi tratti stiamo intuendo che Gesù entra in ogni esperienza di vita. Va nel deserto tra i peccatori, va lungo le rive del lago tra i lavoratori, entra nella sinagoga e ora entra nella casa a indicare che noi possiamo incontrare il Signore in ogni ambiente di vita, in ogni esperienza di vita. Gesù dunque è presente in ogni attimo della nostra esistenza. Il testo del Vangelo odierno dunque ci fa e ci permette di cogliere Gesù nella casa, entra in contatto con i malati. Ma per capire questo testo merita soffermarci sulla prima lettura che la liturgia oggi ci propone nel libro di Giobbe al capitolo 7. Giobbe si trova di fronte al grande dramma della sofferenza umana. E ci viene indicato un grido, il grido di Giobbe, di fronte al suo dolore per aver perso figli, moglie, ricchezze. E a un certo punto Giobbe così si sfoga. Sembra quasi un lamento, intimo, privato, ma se seguiamo il testo ci accorgiamo che non è un monologo quello di Giobbe, ma è un dialogo, è una preghiera sofferta, ma è una preghiera. Ricordati Signore, ricordati. Giobbe sfoga tutta la sua amarezza in Dio, ma nello stesso tempo compie un atto di affidamento, si aggrappa carico di speranza. Ricordati Signore. Giobbe. E sappiamo che al termine della sua esperienza, nell'ultimo capitolo, Giobbe così dirà. Ti conoscevo per sentito dire. Oggi ti conosco, perché ho fatto esperienza di te, perché ti ho incontrato. Questo è il Giobbe giusto che ci viene presentato. Giobbe non ha perso la speranza nel suo Dio. Sa che con lui può sfogarsi, può dire tutto quello che prova e sa che Dio gli darà una risposta al tempo giusto. E sappiamo che Dio ricompenserà Giobbe per tutte le sofferenze che ha incontrato nel cammino della sua vita. Di fronte a questo grido, ma al grido di tutta l'umanità, Dio offre una risposta nel suo Figlio Gesù, fatto uomo per noi. Quel Figlio che raccoglierà ogni grido dell'umanità, ogni sofferenza dell'umanità e la porterà nel suo ultimo grido in croce. Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato. E di fronte a questo grido, Dio Padre risponderà con la risurrezione, aprendo una porta e una vita di speranza e di salvezza per tutti. Cari amici, ecco lo spirito con il quale siamo invitati ad accostarci all'azione salvifica di Gesù. I suoi gesti di guarigione vanno letti in questa chiave. Gesù è il nostro Salvatore e Lui il medico del corpo e delle anime. E Lui la risposta al dramma della sofferenza e della morte umana. E Gesù, ma ora guardiamo il suo modo di agire. Gesù entra in casa e subito gli viene fatto presente che la suocera è a letto amalata. E dunque è inutile, è a letto, non serve nulla. Ecco che Gesù si accosta a questa donna, la prende per mano. E la febbre la lascia ed ella si mise a servirla. Innanzitutto Gesù si avvicina. Non la considera uno scarto, una donna inutile, una pestata. Gesù le si fa prossima, si fa vicino a questa donna. La prende per mano, desidera far cogliere a questa donna che Lui le è vicino. E la febbre la lascia. E lei si mise a servire. Si rimette in moto. Perché una vita che non serve l'altro è una vita che non serve. Si alzò questa donna. È lo stesso verbo della risurrezione. Perché quando siamo presi per la mano di Gesù, ci rialziamo. È un gesto di risurrezione. Come quando ci accostiamo al sacramento della riconciliazione. È un gesto di risurrezione. Quello di poterci rialzare e proseguire il cammino con fiducia e speranza. Evitando di restare ripiegati su noi stessi. Sulle nostre malattie, i nostri debolezzi. I nostri rimpianti. Gesù è colui che ci rialza, ci riprende per mano. Ci ridona speranza e fiducia. Perché quello di Gesù è un gesto di amore e di speranza. A tal punto che questo gesto comincerà a narrarsi in paese. Tanto che al termine del giorno, dopo lo Shabbat, il sabato non ci si può muovere se non per andare in sinagoga. Ebbene al tramonto, al termine del sabato, gli abitanti cominciarono ad accorrere portando i loro malati proprio a Gesù. Venuta la sera dopo il tramonto del sole, gli portavano tutti i malati, gli indemoniati. Tutta la città era riunita davanti alla porta. E Gesù guarì molti che erano affetti da varie malattie e scacciò molti demoni. Ma non permetteva ai demoni di parlare perché lo conoscevano. Ecco la fede che nasce nella gente. La speranza che nasce nel cuore di chi si apre al Signore Gesù. Al mattino presto si alzò quando era ancora buio. E uscito si ritirò in un luogo deserto e là pregava. Ma Simone e quelli che erano con lui si misero sulle sue tracce. Lo trovarono e gli dissero tutti ti cercano. E lei gli disse loro andiamocene altrove nei villaggi vicini perché io predichi anche là. Per questo infatti sono venuto e andò per tutta la Galilea predicando nel loro sinagoge e scacciando i demoni. Proviamo ad osservare attentamente. Gesù si trova nella sinagoga. Predica in modo convinto e convincente. Guarisce chi è presente. E la gente lo vuole trattenere. E Gesù cosa fa? Esce ed entra in casa di Simone e Andrea. E anche qui guarisce coloro che incontra. E anche qui la folla lo vuole trattenere. E Gesù si ritira nel deserto. Anche quando moltiplicherà i pani, Gesù, sapendo che stavano per venire per farlo re, cosa fa? Scappa. Si allontana. Non vuole farsi imprigionare dagli applausi della gente. Dal sentirsi considerato importante. Vedete, è un dettaglio fondamentale questo. Perché Gesù ha una cosa in mente, ed è quella di compiere la volontà del Padre, non quella di inseguire il successo. È un dato importante anche per noi. Perché talvolta rischiamo, anche nella nostra vita quotidiana, di perdere di vista il Signore Gesù. Ci innamoriamo di Lui all'inizio. Decidiamo di seguirlo con entusiasmo, con passione, con convinzione. Ma poi rischiamo di lasciarci prendere la mano e di lasciarci imprigionare dagli applausi, dal successo. E di dimenticare il Signore, ancor più quando Lui ci invita a seguirlo, portando la nostra croce quotidiana, fatta talvolta di avversità, di difficoltà, di sacrificio. È più comodo sedersi sugli allori che caricarci la croce che il Signore ci affida. Ebbene, il Signore ci invita a recuperare sempre l'entusiasmo della primo momento, di recuperare la convinzione con la quale abbiamo scelto di seguirlo, per evitare di seguire i nostri successi, ma non più di seguire il Signore. E talvolta, dietro i nostri tanti affanni della vita, Marta, Marta, tutti affanni per tante cose, Maria ha scelto la parte migliore, anche noi. Talvolta inseguiamo gli affanni della vita, perché sono più piacevoli, perché ci danno più compensazioni umane, ci danno risposte più immediate. Il Signore ci invita allora oggi a verificarci interiormente e a domandarci chi stiamo seguendo? Lui? O i nostri successi, i nostri progetti, chi stiamo seguendo? Educhiamoci allora a coltivare una libertà interiore, un distacco dei nostri risultati. E questo è necessario ed è fondamentale farlo nel silenzio della preghiera. Maria ha scelto la parte migliore. Non dimentichiamo che talvolta ci ripieghiamo in noi stessi per la paura e la vergogna dei nostri errori. Talvolta ci ripieghiamo nei nostri successi, col rischio di non servire più il Signore, ma di servirsi di Lui e dei Suoi poveri per crescere noi in tanta compensazione. E allora non possiamo seguire il Signore se continuiamo a seguire i nostri progetti, le nostre idee. Che questo Domenica ci aiuti allora a focalizzare l'attenzione nello stile di Dio per imparare a seguirlo fino in fondo dove Lui vuole, non dove noi vogliamo portarlo. E a questa parola, così provocatoria ma veritiera, quasi fosse una parola che ci fa la tac, i raggi X del nostro animo, che cosa rispondiamo al Signore? Come sempre lo faccio con due preghiere. La prima è la colletta, che fa da riassunto ai testi che abbiamo appena meditato. O Padre, che con amorevole cura ti accosti all'umanità sofferente e la unisci alla Pasqua del tuo Figlio, insegnaci a condividere con i fratelli il mistero del dolore, per essere con loro partecipi nella speranza del Vangelo. Io invece rispondo così, ma prima di recitare la preghiera, auguro a voi tutti buona domenica e buona settimana. Signore Gesù, con il peso delle mie fatiche e delle mie ferite, delle mie ribellioni e delle mie umiliazioni, sto innanzi alla porta del tuo cuore per dirti Signore mia salvezza, abbi pietà di me. Porgi la tua mano e rialzami dallo scoraggiamento e dalle illusioni da cui mi sento schiacciare e fuorviare. Da te amato e risollevato possa io imparare a dedicarmi a te per servirti in quanti bussano la porta del mio cuore. Signore mia salvezza, rialzami perché ho capito che la vita non serve se non servo.